Tragica notizia per Bruno Vespa. È venuto a mancare, all'età di 64 anni, il fratello minore Stefano. Pure lui giornalista, per tanti anni aveva lavorato a Panorama e il Tempo. Vespa Junior, che negli ultimi anni si era dedicato all'informazione online, è morto a causa di un malore improvviso. Al momento sono pochi i dettagli a disposizione. Stefano Vespa è stato trovato morto nella sua casa di Roma, dove viveva da solo. Sul posto sono immediatamente arrivati i medici del personale sanitario del 118, dopo che i familiari si erano preoccupati perché l'uomo non rispondeva al telefono da diverse ore. Per entrare è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta dell'appartamento. Per ora Bruno, Vespa, non ha ancora rilasciato alcun commento al riguardo. Ha espresso pubblicamente cordoglio invece Giorgio Mulè. Il giornalista e sottosegretario alla difesa ha confidato di aver avuto uno scambio di messaggi con Stefano Solo, pochi giorni fa. Mulè ha spiegato che il giornalista l'aveva contattato per avere alcune precisazioni sull'ultimo decreto legge sull'Ucraina. A detta del collega Vespa Junior, era una persona molto curiosa, scrupolosa, attenta ai dettagli, nonché un gentiluomo nei modi e nella professione. Allo stesso tempo era dolce, sensibile e riservato. Ci stringiamo intorno a Dolore di Bruno, per la scomparsa di suo fratello.